Dobbiamo prepararci per una lunga guerra. Questa è la prospettiva chiara che emerge dall'ultimo vertice Nato di Washington, conclusosi giovedì. Gli USA pianificano addirittura di schierare di nuovo gli euromissili e nella dichiarazione congiunta vengono gettate le premesse per estendere il conflitto sino alla Cina. Ben ritrovati amici con me e Gabriele Germani su Ottolina TV. Oggi parliamo con Giacomo Gabellini di quelle che possono essere le prospettive globali se la Nato si sta gettando a capofitto verso un terzo conflitto mondiale, se sta puntando ad estendersi verso la Nato, verso una Nato globale. Grazie Giacomo e benvenuto su Ottolina. Ciao Clara, grazie a voi dell'invito e buonasera a tutti. Allora, partiamo dalla Turchia perché Erdogan sta tentando di affermarsi sempre più come possibile negoziatore. Abbiamo visto le sue dichiarazioni in cui ha detto che si deve dare una possibilità alla diplomazia affinché la guerra finisca al più presto e senza sconfitti. Ha anche aperto addirittura ad un dialogo con Assad che probabilmente avverrà addirittura in un paese terzo grazie anche alla mediazione di Putin. si è incontrato con Orban negli scorsi giorni e ha dichiarato in conferenza stampa che la Turchia è pronta per entrare nella Shanghai Cooperation. Perché secondo te si sta muovendo in questo modo? A quale ruolo ambisce e cosa spera di ottenere? Diciamo che Erdogan sta portando avanti un progetto che secondo me ha un respiro molto ampio che risale molto indietro nel tempo. Ricordiamo che un suo ministro tempo fa disse che la NATO per la Turchia stava diventando come una sorta di camicia di forza. Cioè uno strumento che tarpava le ali alla Turchia e di cui il resto dell'Alleanza Atlantica si serviva per promuovere i propri interessi, che spesso erano confliggenti con quelli di Ankara. Del resto abbiamo visto che la Turchia ha adottato un modus vivendi molto particolare in seno all'Alleanza Atlantica perché fa parte della NATO dal 1952, ma dopo nel corso degli anni quando Erdogan è riuscito a epurare un po' di tutti gli elementi considerati non federi al proprio paese, dai servizi di sicurezza soprattutto, ma anche dall'esercito e dalla magistratura, ha cominciato a giocare come un battitore libero e sostanzialmente l'abbiamo visto incrementare enormemente il volume degli acquisti di idrocarburi russi attraverso anche un gasdotto, il Tarki Stream, e acquistare sistemi d'arma russi come gli S-400, che è una cosa un po' particolare per un paese membro della NATO. Del resto la Turchia non aderisce alle sanzioni occidentali contro la Russia e è sempre collocata su una posizione di neutralità, neutralità attiva, tipica del periodo che stiamo attraversando. C'è un periodo caratterizzato da avviato ed irreversibile multipolarismo in cui tutta una serie di potenze più o meno rilevanti a livello regionale colgono tutte le opportunità che si presentano dagli spiragli che si aprono dal declino della potenza dominante, quella statunitense, dall'immersione, dagli smottamenti che vengono prodotti da questo movimento sussultorio che porta gli Stati Uniti a declinare, e una serie di potenze, potremmo dire revisioniste, come la Cina e la Russia, la cui emersione sta ridisegnando l'ordine internazionale. In tutto questo Orban cerca di ritagliarsi il margine d'azione più ampio possibile. Credo che il suo agire, l'abbiamo già visto all'azione, perché ricordiamo che nel marzo-aprile del 2022 era in Turchia che c'erano stati dei negoziati tra russi e ucraini, dopo che erano stati inviati in una prima fase a Gomel, in Bielorussia, e si era divenuti ad un accordo, che poi è stato puntualmente salutato dalla visita di Boris Johnson a Kiev, in cui ha detto sostanzialmente a Zelensky che non c'era nulla da fare. Poi in concomitanza con la stranissima, e sulla quale bisognerà fare ampia luce in futuro, strage di Buccia, che ha mandato tutto a monte sostanzialmente. Gli autori di quel compromesso erano soprattutto la Turchia di Erdogan e Israele di Naftali Bennett, la loro premier, il quale ha dichiarato che se non si era raggiunto un accordo di pace stabile era perché gli occidentali volevano sabotare, perché gli occidentali vogliono infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Questo dichiarò Bennett. Quindi la Turchia sembra riallacciarsi a quell'esperienza e riproporla, anche fiutando insomma i cambiamenti che stanno, o che perlomeno dovrebbero verificarsi di qui a pochi mesi. Mi riferisco soprattutto alle elezioni statunitensi, che ormai molto difficilmente potranno prendere una piega favorevole al candidato democratico Joe Biden, nel quale è stato scaricato anche dai suoi stessi organi di informazione e alti finanziatori di riferimento. Notizia di questi giorni che il New York Times, dopo il primo confronto con Trump, pubblicò un prima, cioè, caratteri comitali, per il bene del paese il presidente dovrebbe farsi da parte sostanzialmente. Quindi prenderà verosimilmente il potere, Trump dovrebbe prendere il potere. Trump ha probabilmente già messo in cantiere qualcosa. E credo che questo spieghi l'attivismo diplomatico dell'Ungheria. Perché l'Ungheria, io ho sempre dubitato un po' che l'Ungheria approfittasse, come molti hanno sottolineato, della presidenza di turno dell'Unione Europea, che l'Unione Europea non conta nulla rispetto al conflitto russo-ucraino. Io credo che invece Orban abbia instaurato rapporti eccellenti con Donald Trump. Infatti a marzo si era leccato a Maralago, nella residenza di Donald Trump, e poi a distanza di pochi mesi abbiamo visto intraprendere questa missione diplomatica. Quindi si è leccato in Ucraina, incontrare Zelensky, a Mosca incontrare Putin. A Pechino, e sottolineare l'importanza che Pechino riveste, la crucialità di un attore come Pechino riguardo a questo conflitto, e poi è tornato a Washington. E poi adesso si era presto a tornare a Maralago, probabilmente per aggiornare Trump sulle reazioni che si sono registrate al suo... Prego. Scusa se ti interrompo, però proprio su questo punto qui volevo farti una domanda, perché l'aspetto secondo me interessante di questa vicenda è la diplomazia Orban. Ci abbiamo anche un po' scherzato sopra, in realtà sul nostro canale, nel senso che se lui avesse fatto una dichiarazione tipo bombarderemo Mosca, bisognerebbe usare l'atomica, nessuno si sarebbe smarcato da questa dichiarazione. Invece ha operato per la pace, subito c'è stata alla corsa di tutte le istituzioni europee, a dire no, no, ma lo fa a titolo personale, lo fa a titolo del suo paese. Addirittura si è parlato a un certo punto di chiederne sostanzialmente le dimissioni, cioè di far saltare, dopo neanche 15 giorni già era sul campo la questione, di far saltare il semestre di turno ungherese, e quindi di passare la palla direttamente ai polacchi, a cui invece aspetterebbe da dicembre in poi. Ora, se ho capito bene i meccanismi, dovrebbe esserci la diffida da parte di 20 stati che rappresentino almeno il 65% della popolazione europea sulla slealtà. Cioè bisognerebbe dire no, l'Ungheria sta operando in un modo sleale verso i fatti dell'Unione, dovrebbero esserci quei requisiti. La domanda che ti faccio è, ma è verosimile questa possibilità? Cioè secondo te, più che altro è un'opinione quella che ti chiedo, possiamo arrivare a questo strappo intraeuropeo? Cioè la Germania, i Baltici, i Polacchi, potrebbero alla fine tirare verso questo strappo, questa rottura? Non ti sentiamo. Sì, mi sentite? Diciamo che è possibile, è possibile, perché la stupidità che alleggia, che domina all'interno dell'Unione Europea sta raggiungendo dei livelli incredibili. Quindi è più che possibile. Io credo che ci proveranno. Però è possibile che qualcuno invece gli suggerisca anche di adottare più di consigli. Perché? Perché Orban sta ottenendo credibilità enorme a livello internazionale. Orban, ricordiamo, è il leader di un paese che conta appena 10 milioni di abitanti. ma che nel corso del tempo ha avuto adottato un atteggiamento di estremo pragmatismo che l'ha portato insomma ad essere riconosciuto come leader credibilissimo da parte di tutta una serie di potenze. Pensiamo per l'appunto a questi viaggi che ha compiuto in Russia, in Cina, dove è stato accolto con estremo rispetto. e quindi ricorrere a uno stratagemma così vile in una fase in cui l'Unione Europea sta attraversando degli stravolgimenti e una crisi di identità pesantissima certificata da risultati elettorali non esattamente all'altezza delle aspettative per i partiti tradizionali di governo e mi pare che sia una mossa molto azzardata e potenzialmente suicida. Però il distacco dalla realtà che caratterizza queste classi dirigenti rende questa opzione pericolosamente praticabile. Potrebbero strometterlo dalla presidenza di turno dell'Unione Europea. Peraltro c'era anche un eminente rappresentante del German Marshall Fund che è un think tank abbastanza influente che proprio suggeriva di mettere all'angolo l'Ungheria perché si era macchiata di trollaggio nei confronti dell'Unione Europea. Quindi ci sono anche dei personaggi debitamente pagati per esprimere queste posizioni. Però credo che in tutto sommato l'Ungheria non è che gli interessi più di tanto perché come dicevo, secondo me Orban non parlava a titolo dell'Unione Europea ma si faceva rappresentante, si ergeva a portavoce di una cordata internazionale che fa riferimento a Trump su questo aspetto. Ricordiamo che in un'intervista che ha rilasciato Tucker Carlson Orban stesso mi pare l'agosto del 2023 se non ricordo male Orban si augurava apertamente che Trump vincesse le elezioni perché era l'unica chance per la pace in Europa. Quindi l'aveva anche dichiarato apertamente e sappiamo quanto è pericoloso esprimersi in questi termini entrare quasi a gamba tesa nella politica statunitense in questa maniera. E credo che Erdogan a sua volta sia anche gli interessi a questo esito e che le sue prese di posizione vadano a rafforzare la posizione di Orban. Cioè se c'è una spinta, quella dell'Europa a trazione baltico-polacca al quale sembrano codarsi passivamente anche per esempio la stessa Germania in cui il governo ha ottenuto una batosta elettorale gigantesca ma evidentemente sordo a queste istanze popolari e anche altri paesi tra cui per esempio la Gran Bretagna c'è un'altra controspinta che proviene da un'area diversa che fa riferimento all'Ungheria potenzialmente alla Turchia e voglio ricordare anche che Orban è uscito dal gruppo di riferimento tradizionale dei partiti di destra europei per fondarne un altro a cui hanno aderito immediatamente un gruppo austriaco ed è, credo che questa mossa rifletta una spaccatura una posizione che va maturando insieme ad alcuni paesi dell'Unione Europea che si propongono di promuovere con forza la via della diplomazia lo stesso leader polacco Robert Fizzo in questi giorni ha parlato proprio di pericolo enorme che si c'è là dietro l'impegno che è stato assunto a margine della dichiarazione finale del vertice di Washington della Nato di rendere irreversibile il processo di adesione all'Ucraina la Slovacchia, siccome ci vuole l'unanimità per ottenere l'ingresso di un nuovo membro la Slovacchia si opporrà e sicuramente si opporrà anche l'Ungheria e credo che la Turchia a questo punto assumerà una posizione analoga quindi c'è secondo me un cespuglio interno all'alleanza atlantica che sta insomma prendendo posizioni si sta smarcando dai veri propri driver della Nato in questo momento che sono Scandinavi per un verso e Polacco-Lituani Polacco-Lituani, Estoni, Elettoni dall'altro e il fatto stesso che l'Unione Europea nonostante i pronunciamenti decisamente inequivocabili dei votanti europei durante le elezioni che sono state a giugno non ha trovato di meglio da fare che riconfermare quanto pare verrà formalizzato a breve Ursula von der Leyen a guida della Commissione Europea e addirittura piazzare niente poco di meno che l'Eston e Caia Callas un ultrafalco ad alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea quindi credo che queste cose ad Orban a Erdogan a Fizzo e ad altri non vadano giù sì allora in questo vertice io sento un sentione ok risolto allora durante questo vertice si persegue la strada che inizia a porre nel vertice dell'anno scorso la Cina era stata definita una sfida costante adesso addirittura complice della Russia tant'è che c'è stato un botta e risposta con con Pechino in cui il portavoce del ministro degli esteri ha Lin-Jan ha definito prevenute calugnose queste queste accuse e insomma ricordato alla Nato di essere un'alleanza difensiva di insomma un'alleanza peraltro transatlantica e quindi di non aver nulla da dire sostanzialmente nell'Indo-Pacifico c'è una un'idea almeno da parte degli stati europei che o il Canada di estendere il proprio raggio d'azione perché appunto nel momento in cui si definisce la Cina un complice della Russia in qualche modo la si coinvolge negli ossidità inoltre c'è stata anche in questi in questi giorni una dichiarazione da parte del ministero degli esteri russo che ha avvisato sulla penetrazione della della Nato nel Caucas in particolare nel del Canada cosa cosa pensi si sta andando verso una Nato globale una Nato che rivendica un maggiore protagonismo in altri scenari del mondo in particolare l'Indo-Paciflo che presumibilmente sarà il reale teatro dello scontro tra Occidente la cordata di paesi di potenze multipolari e quale sarà secondo te la reazione della Cina davanti ad una Nato sempre più assertiva direi che il processo di globalizzazione della Nato per usare un'espressione cara a un sociologo molto in gamba che si chiama Madi Darius Nazemroia che ha scritto anche un libro tradotto in italiano anni fa per si intolava proprio la globalizzazione della Nato un libro vecchio di diversi anni credo che sia in pieno svolgimento ma è un progetto che sembra riscuotere ben poco successo cioè il tentativo di allargare il traggio d'azione della Nato all'area dell'Asia Pacifico è conclamato c'è questo tentativo ma sembra scontrarsi con una logica diciamo tipica dei paesi asiatici che rifiutano diciamo questo questo concetto questo approccio binario tipicamente statunitense o con noi o contro di noi e voglio ricordare sì come giustamente hai sottolineato Clara tra i 38 punti contenuti nel documento finale redatto a margine del diciamo del vertice di Washington della Nato c'era proprio questo richiamo questa accusa alla Cina di aver di continuare a sostenere lo sforzo bellico russo attraverso la fornitura di tecnologie critiche componentistica eccetera accuse peraltro che per il momento se si guardano anche i sistemi d'arma statunitensi si vedono che buona parte della componentistica è cinese quindi insomma bisognerebbe anche avere un po' di senso della decenza quando si muovono certe accuse ma siamo a questo sono accuse pretestuose ma che riflettono una logica ormai di contrapposizione per blocchi che gli Stati Uniti stanno promuovendo a tamburo battente e l'abbiamo avuto già da una dimostrazione pratica quando gli Stati Uniti adottano tazzi sulle importazioni di auto elettriche cinesi dal 100% e subito dopo l'Unione Europea segue a ruota benché l'Unione Europea abbia molto più da perdere degli Stati Uniti da questa operazione significa che si sta andando verso una segmentazione della globalizzazione in vasi di sempre meno comunicanti cioè attraverso l'innalzamento di barriere che rendono sempre più difficile il commercio con quelli che gli Stati Uniti identificano come propri rivali strategici insomma questo è l'andazzo del resto c'è Gialli Strass l'ex premier britannica che adesso è stata assilurata addirittura dal Parlamento era stata premier solo pochi anni fa e adesso se ne è uscita con la coda tra le gambe perché ha avuto una battosta elettorale gigantesca hanno parlato della necessità di espandere la Nato all'Asia Pacifico e il chiaro e la chiave di tutto questo il perno è indubbiamente l'Australia cioè in questi giorni dovrebbe prendere via una un'esercitazione pitch black si chiama in Australia e cui parteciperà anche l'Italia che dovrà inviare navi e F-35 che caricano sulla porta aerei mi sembra presso per l'appunto i porti i porti australiani io vorrei sapere cosa che logica abbia per l'Italia andarsi in pelagare in uno scenario come quello se non quella della sudditanza del vassallaggio agli Stati Uniti è chiaro che sia così però sì l'Italia può essere ricettiva la Germania può essere ricettiva l'Australia figuriamoci è un elemento cardine dell'anglosfera membro dei Feivais i Cinque Occhi l'Alleanza Spionistica di cui si compongono tutte le nazioni diciamo la tradizione anglosassone è Australia Nuova Zelanda Canada Stati Uniti Regno Unito c'è anche Israele di mezzo che non sarebbe esattamente anglosassone ma quello è un caso un po' a parte e quindi per l'Australia può funzionare ma per gli altri non funziona molto bene perché abbiamo visto per esempio che Putin dopo essersi recato in visita una visita che ha avuto una grossa eco-mediatica in Corea del Nord dove ha incontrato Kim Jong-un stretto un'alleanza partenariato strategico con la Corea del Nord Putin si è recato in Vietnam e il Vietnam è un paese abbastanza filo occidentale si è legato attraverso vari accordi agli Stati Uniti ma che non disdegna assolutamente di mantenere ottime relazioni anche con la federazione russa Putin è stato accolto in pompa magna in Vietnam questo è un dato cruciale questo cosa significa? Significa che la logica dell'amministrazione tipica dell'amministrazione Bush figlio o con noi o contro di noi non funziona più in Asia questa logica la respingono ed è altamente significativo un discorso che è stato pronunciato proprio in questi giorni dall'ambasciatore statunitense in India che ha detto io apprezzo l'autonomia strategica dell'India questo suo volersi chiamare fuori e cercare comunque da conflitti che non la riguardano direttamente ma durante le crisi l'autonomia strategica non esiste noi Stati Uniti dobbiamo essere a conoscenza se un paese come l'India sarà o meno al nostro fianco cioè insomma andare a minacciare un paese come l'India una potenza nucleare in fortissima scesa un giorno dopo che non rendra modi il primo ministro indiano si reca a Mosca e abbraccia letteralmente Putin raggiunge una serie di accordi fondamentali tra cui praticamente appalta la federazione russa la costruzione del programma nucleare civile indiano con l'importazione di centrali galleggianti alla Russia come sappiamo all'avanguardia in questo settore non è possibile cercare di attrarre imporre questa logica ai paesi asiati si sta rivelando un fallimento un fallimento dietro l'altro quindi gli Stati Uniti si proveranno useranno l'Australia sembrerebbe che stiano riuscendo ad inglobare in questa logica le Filippine ma per farlo hanno dovuto piazzare a capo del governo niente meno che il figlio di Marcos personaggio assolutamente impresentabile che credo avrà vita breve però insomma l'idea di allargare la natura al teatro pacifico c'è in un'ottica smaccatamente anticinese ma non credo che otterrà tecchirà a quelle latitudini tutt'altro senti sempre giovedì il Giappone ha presentato insomma il report della difesa in cui viene individuata la pericolosità bellica della Russia e viene tra l'altro dato un allarme sul fatto che l'Indo-Pacifico potrebbe nell'Indo-Pacifico potrebbe svilupparsi un scenario analogo di guerra come quello in Ucraina quindi insomma il Giappone si sta allineando nella consapevolezza di essere geograficamente davanti alla Russia la Corea del Nord alla Cina quindi tre potenze nucleari in una situazione di conflitto esteso se dovesse scoppiare questo conflitto quale sarebbe secondo te la reazione degli Stati Uniti si sacrificherebbero per il Giappone quanto si impegnerebbero questa è una bella domanda perché è interessante notare come il Giappone anche in Giappone ci sia una sfiducia totale verso la leadership politica di questo momento ed è il Giappone peraltro adesso sconta in maniera pesante la sua adesione alla logica o contro di noi che ha diciamo hanno imposto gli Stati Uniti mentre per esempio il Vietnam si è smarcato l'India si è smarcata il Giappone che è un paese che è stato letteralmente rieducato dopo la seconda guerra mondiale dagli Stati Uniti si è mantenuto invece il fedele bastione potremmo dire degli Stati Uniti nell'area dell'Asia nord-orientale però Putin con quella mossa di andare in Corea del Nord e siglare una partnership strategica con Pyongyang con Kim Jong-un insomma ha messo sul tavolo parecchie cose per esempio Putin ha detto dal momento che gli occidentali per combattere la Russia si servono dell'Ucraina e armano e rimpinzano l'Ucraina di armi la Russia si riserva di rispondere simmetricamente e quindi di fornire sistemi d'arma russi avanzati anche ai propri alleati che potrebbero avvalirsene per colpire interessi occidentali e poi va in Corea del Nord ancora non è dato sapere se questa partnership strategica rientra la fornitura di sistemi d'arma russi avanzati ma è plausibile e di certo questo alza comporta un innalzamento per il Giappone ma anche per la Corea del Sud del costo del prezzo politico che questi paesi saranno chiamati a pagare per la loro adesione ai dettami degli Stati Uniti quindi questo il Giappone in particolare aveva accettato di aumentare la produzione di proietti di artiglieria da consegnare agli Stati Uniti così da permettere a Washington di rifornire a sua volta l'Ucraina di artiglieria senza intaccare eccessivamente le proprie riserve strategiche la Corea del Sud aveva letteralmente riempito di armi la Polonia K2 mezzi corazzati di fabbricazione sudcoreana stesso discorso la Corea però si colloca su una posizione un po' più più critica più ambigua ed è significativo che mentre Putin era in Corea del Nord a parlare con Kim Jong-un Xi Jinping era in Corea del Sud a parlare di economia e di commercio quindi credo che ci sia stata anche una coordinazione tra Putin e Xi Jinping ma questa è una mia idea però voglio rilevare la simultaneità tra le due mosse il Giappone si sta indubbiamente infilando in uno scenario assai sfavorevole perché diciamo che il suo datato modus vivendi cioè di cieca adesione agli interessi statunitensi lo sta trascinando in una deriva antinazionale molto smaccata che dal mio punto di vista peraltro non assicura assolutamente il supporto statunitense in caso di conflitto armato cioè qualora quell'area dovesse incendiarsi come i giapponesi sembrano ventilare io sono tutt'altro che convinto che gli Stati Uniti mobiliterebbero le proprie forze a sostegno dei giapponesi gli Stati Uniti vengono da un periodo insomma di scaricamento da una lunga serie di scaricamento dei propri cosiddetti alleati che fa abbastanza impressione insomma si va dal Vietnam del Sud fino ai Kurdi che sono stati traditi tra molte virgolette diverse volte l'Afghanistan insomma Zelensky vedrei sono abbastanza convinto che farà un po' la stessa fine insomma gli Stati Uniti hanno una lunga tradizione di utilizzo di impiego dei propri proxy una volta spremuti come un limone poi vengono gettati nella spazzatura insomma e non mi meraviglierei se questo discorso si applicasse anche si applicasse anche al Giappone ed è interessante a riprova di questo secondo me di questa logica come la Polonia abbia fatto marcia indietro la Polonia per esempio aveva dichiarato sigla un accordo di sicurezza con Kiev che impegna la Polonia a colpire vettori russi che dovessero prendere sul suolo su cieli ucraini qualora prendessero la direzione della Polonia ma voleva tirare chiaramente in ballo la Nato in tutto questo cioè a fronte di una risposta russa la Nato deve intervenire e la Nato non interviene quindi se lo fate lo fate a titolo privato al di fuori della cornice dell'Alleanza Atlantica questo perché è evidente che c'è il timore delle ritorsioni russe anche questo discorso degli F16 si verranno l'Olanda la Danimarca la Norvegia una sessantina di F16 dovrebbero consegnare all'Ucraina ma si guarderanno bene dal farli decollare dai propri aeroporti perché come ha dichiarato senza mezzi termini Putin laddove questi aerei dovessero decollare dal territorio dei paesi Nato i luoghi le strutture da cui decollano diventano automaticamente obiettivi legittimi per la Russia e a quel punto cosa si fa? se la Russia dovesse colpire un aeroporto in Polonia e la Nato non agisce ragazzi rischia di venire giù tutta l'impalcatura dell'Alleanza Atlantica perché a quel punto che garanzie ci sarebbero? era un'immagine vagheggiata da Trump poi a un certo punto esatto o vagate o la Russia può anche attaccarvi quindi infatti Gabriele infatti Gabriele c'è questo è interessante proprio che alla vigilia del vertice di Washington si era fatta strada l'idea insomma di impegnare gli Stati Uniti in maniera talmente vincolante per i prossimi anni cioè da inserire una sorta di pilota automatico che vanificasse un eventuale impatto sul conflitto russo-ucraino dell'elezione di Donald Trump presidente degli Stati Uniti quindi un smarcamento degli Stati Uniti sarebbe stato vanificato dall'adozione di una serie di obblighi che l'amministrazione uscente Biden avrebbe assunto vincolando quella successiva un po' quello che accade in Unione Europea con i governi tecnici come Draghi che prendono impegni per i prossimi 40 anni senza che praticamente mettendo i successivi esecutivi di fronte al fatto compiuto un po' l'idea era questa non sanno però che questi discorsi si fanno tra pari e nella Nato non c'è nessuno che è al pari degli Stati Uniti e gli Stati Uniti non trattano nessuno da alleato conoscono solo sottoposti e prima questi paesi impareranno a capire e a comportarsi di conseguenza questa antifona meglio riusciranno a tutelare i propri interessi se no faranno la fine del Vietnam del Sud dei kurdi del governo afgano collaborazionista insomma senti Giacomo ti faccio un'ultima domanda sappiamo che in questa settimana sono in corso le esercitazioni congiunte tra Cina e Bielorussia anche lì insomma l'ho detto anche in un'altra intervista la stampa occidentale si è lasciata proprio andare alle fantasie a 50 km a 10 km a 5 km cioè l'ho detto stava diventando sono in Polonia cioè stava diventando proprio una cosa quasi saccomica leggerla però senza entrare ora nel merito di questo perché sappiamo un po' come funziona la bolla mediatica però al di là insomma degli alarmismi in realtà secondo me l'aspetto interessante è che l'esercitazione riguarda per la ripresa di ostaggi per lo più cioè quello che viene dichiarato è che per lo più è un'esercitazione che si concentra sulle possibilità di recuperare eventuali ostaggi e si esercitava se si svolgeva su barriere di acqua e ambiente urbano ora l'aspetto interessante è appunto però che per la prima volta la Cina fa un'esercitazione di questo tipo sul suolo europeo adesso lo fa a Brest effettivamente magari non proprio a 5 km però al ridosso del confine con la Polonia cioè nell'area più occidentale della Bielorussia secondo te effettivamente si tratta come dice un po' il mainstream di una minaccia di un messaggio di un messaggio in codice riguardo all'aggressività anche appunto alle ultime mosse polacche ad esempio che tu hai appena finito di ricordare è in qualche modo un messaggio cinese alla Nato all'Occidente oppure effettivamente il fine è quello che è anche perché poi il Libra ha ricordato un altro aspetto sono interessante è che la stampa a Bielorussia ha presentato la cosa in termini molto forti la stampa cinese invece è molto stemperata un po' come da tradizione molto mite ha anche un po' ridotto tutto la bolla anche l'aspettativa sono esercitazioni per il rilascio di ostaggi non è niente di offensivo che ne pensi che idea ti sei fatto direi che allora questa è un'esercitazione antiterrorismo teoricamente ma chiaramente il significato politico è gigantesco cioè qui mentre la Nato si gonfia i muscoli che non ha si illude di avere tutta questa potenza ma se si leggono bene i 38 articoli di cui si compone questo documento finale si capisce che il messaggio implico è siamo in ritardo in tutta una serie di aspetti e dobbiamo recuperare terreno i mezzi per poter la via per poter tornare a risplendere sono quelli indicati nel documento però c'è un'implicita ammissione di debolezza non è un questo traspare in maniera chiarissima d'altro canto c'è una serie di organizzazioni parallele Erdogan ha detto che lui non vede l'organizzazione per la cooperazione di Shanghai nei BRICS come un'alternativa alla Nato ma è ovvio che lo sono cioè se si guarda i stessi membri di queste organizzazioni è ovvio che sono membri sono paesi che si sono legati tra loro hanno fortemente cresciuto il livello della cooperazione reciproca cementati dall'interesse che sono una sorta se si guarda sono il club dei paesi sanzionati dagli Stati Uniti in larga parte oppure forse che hanno subito la dominazione occidentale in molti casi insomma credo che il fatto che i BRICS per un verso si allunghino a dismisura la lista d'attesa allarghino per un verso il proprio patea allunghino la lista d'attesa e quindi acquisiscano affettibilità interesse a livello globale un dato incontestabile d'altro canto il fatto che l'organizzazione per la cooperazione di Shanghai che comunque ha un'implicazione militare perché è un'alleanza antiterrorismo quindi ha delle implicazioni di sicurezza coinvolga l'Iran e poi la Bielorussia e che i soldati cinesi entrino in Bielorussia per compiere esercitazioni congiunte significa che l'epoca dell'unipolarismo l'epoca del diciamo del del predominio dell'egemonia totale degli Stati Uniti è ormai un morte sepolta quindi è il messaggio chiaro è questo cioè c'è la parte di mondo che guarda con interesse a est non è necessariamente in Africa o in Asia ma è anche all'interno della stessa Unione Europea all'interno della stessa Europa non dell'Unione Europea scusate della stessa Europa perché chiaramente questo ha una ricaduta strategica fondamentale per adesso sono esercitazioni antiterrorismo ma nulla vieta che si registri un incremento di qui a poco anche perché è nell'ordine delle cose che questo accada nel momento in cui la Belarusia entra a far parte di un'organizzazione come quella lo fa esattamente per questo scopo per migliorare l'interoperabilità affinare la cooperazione moltiplicare gli ambiti di collaborazione con i paesi che già fanno parte di questa struttura voglio poi ricordare prima abbiamo menzionato il partenariato strategico che la Russia ha sottoscritto con la Corea del Nord ma ottobre a quanto pare farà la stessa cosa con l'Iran quindi insomma c'è molto su cui riflettere di fatto mi sembra di poter dire che i paesi asiatici stanno costruendo un'architettura di sicurezza parallela alternativa a quella transatlantica e separata da essa e stanno soprattutto inserendo l'ambito militare in tutta una serie di aspetti di settori che vanno dall'economico e commerciale e puntano tutti verso una direzione molto chiara prima la Russia guardava completamente occidente adesso la Russia è ben presente in Asia la politica asiatica che la Russia ha sviluppato per effetto di tutto ciò che è accaduto dal 2008 in poi dal vertice di Bucharest in poi in cui si è deciso che l'integrazione della Georgia e dell'Ucraina nella Nato era questione di tempo fondamentalmente questo ha avuto una serie di implicazioni che hanno portato la Russia a spostare il baricentro non solo commerciale ma anche politico e direi anche culturale da 180 gradi da occidente a oriente il cui corollario è proprio questo la Russia sta investendo tantissimo sul messo a punto di corridoi pensiamo a quel corridoio che parte sostanzialmente da San Pietroburgo e arriva nell'oceano indiano si collega all'India attraverso l'Azerbaijan eccetera l'Iran per esempio corridoio nord-sud oppure i gasdotti e gli oleodotti che dovrebbero portare gli idrocarburi russi verso la Cina oppure i forti investimenti che si registrano nell'estremo oriente russo nella Siberia orientale quell'area che per l'appunto è vicino alla Corea del Nord e alla Cina quell'area si sta realizzando una propria unificazione se si guarda dal punto di vista dell'infrastruttura molto molto potente quindi è la Russia che se ne dica al centro di tutto questo processo in qualche modo la Russia ha accettato anche di la rivalità diciamo strategica che avevano in Siberia con i cinesi l'hanno un po' stemperata e anzi hanno accettato una sorta di colonizzazione demografica della Siberia perché preferiscono che quegli spazi siano utilizzati cioè veramente lì vediamo win-win come modello l'importazione di mano d'opera cinese e di importazione nordcoreana in cambio affidano la gestione del porto di Vladivostok ai cinesi insomma qui ci sono e poi peraltro in ottica di bilanciamento delle proprie relazioni la Russia mantiene rapporti eccellenti con l'India come ho detto prima cioè questo è anche il discorso che si facevano la Russia si è trasformata in un vassallo della Cina a parte che i vassalli siamo noi degli Stati Uniti ma la Russia invece sta modulando la propria politica estaca in maniera molto attenta e cercando di non dipendere troppo soltanto da un soggetto perché sappiamo l'India ha delle questioni aperte con la Cina ma questo non ha impedito la Russia di mantenere le proprie tradizionali e ottime relazioni con l'India e del resto i cinesi ragionano in maniera molto diversa dagli statunitensi non diranno mai o con noi o contro di noi questo non è completamente estraneo alla logica cinese quindi credo che l'Asia stia organizzandosi da sé e rifiuta in maniera sempre più insofferente le esternazioni paternalistiche le esortazioni paternalistiche degli Stati Uniti e dei loro alleati io voglio ricordare proprio un episodio che mi colpì pochi paio di mesi dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino l'India lungi dalle derive delle sanzioni aveva moltiplicato per 30 35 volte il volume delle importazioni di idrocarburi russi il ministro degli esteri Jay Shankar indiano interpellato mi sembra da un giornalista della BBC insomma questo giornalista diceva ma scusi perché l'India non aderisce alle sanzioni come si sentirebbe lei se a fronte di un attacco cinese contro l'India l'Occidente se ne chiamasse fuori esattamente come sta facendo l'India nei confronti rispetto al conflitto russo-ucraino lui ha detto l'Europa si riferiva chiaramente all'Occidente nel suo complesso ed è ora che esca dalla sua dalla forma mentis in base alla quale i problemi del tutto il mondo non sono problemi dell'Europa i problemi dell'Europa sono problemi di tutto il mondo questo credo che sia emblematico circa la via che stanno prendendo questi paesi vai Clara no io in realtà volevo non volevo fare nessuna riflessione aggiuntiva anche perché insomma è stato detto tutto chiedo come ultima cosa a Giacomo se vuole darci in maniera molto sintetica una un'opinione cosa pensa di questo ultimo vertice che si è concluso se ci sta facendo fare un passo in più verso un disastroso conflitto e poi se vuoi aggiungere qualcosa insomma fai pure da un punto di vista delle prese di posizione lo è indubbiamente un ulteriore passo verso un inasprimento dei rapporti non c'è niente da dire in proposito il punto però è che tra gli intendimenti e le concrete possibilità di fare qualcosa c'è un oceano insomma e quindi credo che gli incidentali ancora siano ancorati a una sorta di pensiero magico puoi usare un anglicismo che non è esattamente ciò che mi piace di più però il cosiddetto wishful thinking è pensare in maniera completamente sconnessa dalla realtà e quindi ritenere che il mondo sia ancora fermo al 1991 92 mi porta a ritenere che basterà pochissimi sposteranno degli sforzi diciamo calibrare l'impiego delle risorse secondo un'ottica più accurata e tutto tornerà insomma al nostro vantaggio perché noi non possiamo perdere poi in fin dei conti è un po' quello che emerge in realtà credo che questo conflitto russo-ucraino stia rendendo palese agli occhi di gran parte dell'opinione pubblica mondiale il fatto che l'Occidente ha perso gran parte del suo smalto e la immagine di vulnerabilità che si era costruito nel corso degli anni non corrisponde a una forza militare politica diplomatica una capacità di deterrenza di persuasione all'altezza di questa immagine di questa narrazione e le implicazioni sono evidenti noi vediamo che l'Africa cioè un continente storicamente terreno di caccia per le potenze coloniali europee in primo luogo e si è smarcata in maniera molto rapida e radicale da di tutta una serie di governi collaborazionisti con la Francia soprattutto ma anche con gli Stati Uniti perché il Niger ha cacciato anche gli statunitensi dal proprio territorio per adottare aprire in maniera inequivocabile la Russia e Cina che vengono individuati come attori dotati di una capacità di rapportarsi con le controparti paritaria fanno legittimamente i loro interessi e vengono accolti favorevolmente come tali per lo più quindi la Nato si gioca molto della sua credibilità nei prossimi mesi ma credo che per quanto tentino insomma di disperatamente di invertire un'inerzia che ormai il conflitto sembra aver preso i loro sforzi risulteranno per quello che mi sembra vani a meno che non si arrivi veramente ad oltrepassare una linea rossa gigantesca perché questo è il pericolo e lo sottolineava anche la RAN Corporation in un suo studio che poi è stato pubblicato anche in un editoriale sul Washington Post si sottolineava che l'escalation della Nato necessita di una di una strategia perché continuare per esempio armare consegnare all'Ucraina sistemi d'arma sempre più moderni autorizzarla a colpire in profondità in territorio russo condurre coordinare attacchi come quello a Sebastopoli che ha ucciso diversi civili non può avere un senso in vista del tentativo di portare la Russia al tavolo delle trattative quindi alzare il prezzo politico per la continuazione del conflitto insomma per la Russia ma se si continua ad alzare l'escalation senza travedere senza non in funzione di una di una trattativa prima o poi si fiorà per forza di cose per inciampare su una linea rossa vera reale e questo potrebbe scatenare una serie di ritorsioni contro ritorsioni una spirale negativa una spirale un circolo vizioso pericolosissimo dagli esiti potenzialmente catastrofici ai noi e su questo dobbiamo concludere grazie Giacomo intervento illuminante insomma vabbè chi c'era a Festottolina sa che è stato uno dei nostri ospiti più graditi insomma quindi l'abbiamo già riempito di belle parole lì quindi non lo ripeteremo però insomma ospite gradito che non vediamo l'ora che ritorni da noi ma soprattutto non lo vede il nostro pubblico ringrazio anche Clara per affiancarmi come al solito in queste interviste vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirci sui social perché la redazione di Ottolina TV vive grazie alle vostre iscrizioni quindi non abbiate paura iscrivetevi e vi ricordo anche questo fine settimana cioè domenica che ci sarà questo incontro a Carrara con Giuliano Marrucci in cui si parlerà di libertà di stampa in relazione alla questione palestinese perché sappiamo che i giornalisti sono stati particolarmente presi di mira durante l'intervento israeliano e Gaza è perché sappiamo che i social e la stampa i mezzi di comunicazione occidentali hanno stretto particolarmente il controllo le reti della censura proprio riguardo alle informazioni che arrivano dalla Palestina in questi mesi io quindi ringrazio ancora Giacomo ringrazio i nostri spettatori ringrazio Clara ciao a tutti alla prossima ciao a tutti 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 ciao a tutti